Il coraggio non è mai stato, non avere paura. Le persone coraggiose sono quelle che affrontano i loro timori e le loro incertezze. Sono quelle che le ribaltano al loro vantaggio usandole per diventare ancora più forti. Nel occhio dei nostri occhi forse c'è anche un po' di timore, come sempre quando arrivi al momento decisivo. E allora, il coraggio! Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti! Grazie a tutti!